ciao a tutti ragazzi sono il suo genzolotto oggi sto facendo un po' un video così perché non sono dovuto andare a scuola perché non mi sento bene ma registro per non farmi disperare ecco e oggi voglio fare un po' un po' divertire su gta con la modalità reddivista madonna uuuuh ma la johnsina ok adesso dai eccoci qua con michael io ovviamente penso che dovrei usare il mio personaggio online se non è riuscito come un perda no allora altra volta mi ha usato eh no qual è l'altra volta boh sport che potremmo usare e che possiamo usare brad ho visto una cosa di franklin che mi piaceva scusate raga però voglio vedere franklin ecco così ho modificato ho dimenticato di modificare delle cose vabbè me le metto un attimo raga non ci vuole niente vorrei apparire con me le metto un attimo raga ma adesso non lo vedete perché io poi la devo mettere si messe tutte messe tutte ecco qua adesso posso fare tutto quello che voglio ho eliminato guardate raga guarda non spero niente che figliata oddio esploderai 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 no non esploderai quel camion lo distruggiamo si è atterra qua no non sono atterrato non sono atterrato se ci è atterrato sopra allora piccolo camion morirai tra ora che figato dai pomperi pomperiii alza e dai un esplosio avanti boom ricarico sempre perchè ovviamente si mette anche a ricaricare qua uno due uno no 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 Scusate! Oh Ah Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Che bello fare bordello Ah, sarà arrivato Ecco qua Ehi Non ci Provare, capito Ok, basta Mi sono lutto Via Che tristezza Freno, feno, feno Una macchina Che fortuna Ah, meno male che ho scelto Franklin Perché Franklin è velocissimo A fare A prendere la macchina Adesso dove potrei andare E ora vado Ma ricordo Che c'è? Madonna Madonna Ragazzi Vedete che è questo Oh Ma Sì Ecco Così mi posso muovere Aspetta Un'altra Ecco Adesso Partì, partì, partì Tadà Questo era come guidare Ottimo Era Un'altra 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 Ciao Ah, sì No, fermo Non c'è Au E basta Far Deficente Ah Non sai guidare Un'altra Un'altra Solo che con i macchinoni Non funziona Ehi È un mio cappello Quasi È inutile Au Questa Me la pago Ecco Ho preso Una storia Pompieri Sì Porco Pompiere Ecco Questo Adesso Oddio Mannaggia Te Adesso Oh Raga Che cuore Oh 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 Mi ha rotto Sei serio? Sei serio? Ah Cacchio Vero Anche i calci E' vero Un'altra Non fa niente Frank Non fa niente Ok Ho cliccato il tasto E vai Sì Finalmente Una macchina La seconda macchina Che possiamo Come A prendere Ecco Andiamo Che possiamo Fare Una carretta Questo? Questo? Perchè Lodi Vabbè non è proprio un parcheggio perfetto Però dai ci sta Togli questa arma inutile ok non so da quando stiamo registrando Ci stiamo divertendo il divertimento adesso no Vai Emanca cosa che posso lanciare è che esplode Guarda ha centrato buono Sì sì è dovuto esplodere E non scappa più Burrito No li hanno finiti Vabbè dai Poi li compreremo No Ho sbarrato Ma che ci vuole Che Ehi Ah ecco adesso va meglio Sfido del parcheggio perfetto No Eh vabbè però non ci riuscivo mai Sì è stato così Ok devo entrare qui Tipo Così Un po' più preciso Un po' più preciso magari Sono pronta Per quanto Dai riproviamo Magari con una macchina un po' più grande Macchina un po' più grande Senti mi serve una macchina più grande per la challenge Quindi tu non ci sei Non lasciami Ah sbombiamo un po' la strada Un po' più grande per la strada Sfido del parcheggio Adesso morirete Wow Ma è un giochellino Tutto mio Che E non ti permettere Di sparare a me la mia macchina Raga andiamo in giro con questo Siamo dei boss Pure Wow E la mia macchina E la mia macchina brava, scruciamo acqua ecco, adesso vorremmo ritornare cosa? è un quarto? come? è una roba, si è fermata in un'ora ok ah mi state chiedendo che sta a fare questo voglio prepararmi per fare una cosa ecco allora ragazzi ho lasciato un sacco di bei paligioni all'insù come dice il nostro caro franklin quindi noi finiamo il notte per il nostro caro è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa